La Fidelis gioca e crea, ma il Foggia porta a casa i tre punti di platino e tra tantissime proteste, poiché sul gol decisivo pende una sospetta posizione di offside. Ma la sconfitta è disastrosa, soprattutto per la classifica della squadra di Trocini, che perde un altro punto su tutte le dirette concorrenti e vede sempre più lontana anche la zona play-out. Diversi cambi di formazione per entrambi i tecnici. Trocini lascia in panchina Bolsus e si affida all'esperienza di Pastorini, con Costa Ferreira alle spalle di Ecuban. Si torna ad una difesa a tre con Delvino Dalmazze e De Franco. Per il Foggia invece il neo arrivato Somma in tribuna, a causa di una vecchia squalifica, si affida al 3-5-1-1 con Schenetti alle spalle di Ogunsei e l'ex di Noia, a dettare i ritmi a centrocampo assieme a Peterman. E l'inizio della Fidelis sembra sorprendere il Foggia. La squadra di Trocini, sospinta da quasi 4.000 spettatori, sporca subito i guantoni di Tiam con il gran tiro di Arrigoni dopo neanche un minuto di gioco. Ma la pressione è costante ed Ecuban calcia di prima intenzione sull'assist di Costa Ferreira. Ancora l'estremo difensore del Foggia in corner, Candellori. Anche lui dalla distanza, sempre attento Tiam in due tempi. Dieci minuti di gran ritmo per la formazione di casa, ma il Foggia replica con Ogunsei che si libera di De Franco in aria, ma il suo tiro finisce sul fondo. Da ottima posizione Peterman, gran tiro dalla distanza, questa volta a respingere tutto. La gara scende di tono, ma è sempre la Fidelis in pressione. Ci prova anche Pastorini, dopo aver saltato ben tre uomini. Tiro troppo schiacciato e facile per Tiam al 37esimo. Poi Ecciotti nel cuore dell'aria a calciare potente, ma sulla sua strada c'è l'intervento con il corpo di Dinoia. Nulla più per la prima frazione di gioco nella ripresa, però stesso copione tattico anche se all'inizio è subito il Foggia ad avere una buona opportunità con Schenetti, che sfrutta un errato disimpegno della Fidelis e calcio da posizione leggermente defilata appena in aria. Palla sul fondo. Ma al quindicesimo il Foggia passa tra le vehementi proteste dei padroni di casa. Azione prolungata degli ospiti, palla che viene rinviata male da Mikowski, ma il tiro di Peterman trova sulla sua strada Ogunseie che tutto solo batte Savini proteste. Per la posizione dell'attaccante Foggiano, il sospetto fuorigioco, anche se c'è da rivedere, anche la posizione dello stesso Mikowski. La replica andriese arriva praticamente subito con una doppia occasione clamorosa. Pastorini si libera bene in aria e calcia con Tiamo a salvare tutto, ma sulla ribattuta Costa Ferreira calcia forte, ma è ancora perfetto nell'intervento l'estremo difensore ospite. In campo anche Bolsius e Pavone per dare più consistenza all'attacco, ed è proprio Pavone prima a liberarsi in aria e a calciare con il pallone, che viene intercettato dal colpo di Pastorini, e poi a servire invece Bolsius che tutto solo in aria calcia alto di sinistro. Nonostante i tanti attaccanti, però la Fidelis non ne ha davvero più. Resta la buona prova dei biancazzurri, colpiti probabilmente nell'unica distrazione difensiva. Il problema resta quello del gol. Niente reti da oltre 400 minuti e sempre più ultimi in classifica. E sabato si torna tra le muramiche per affrontare questa volta la Gelbison. Niente reti da oltre 500, Niente reti da oltre 400 clients. 8 8